Occhio ai giri eh! Quattro volta e stavolta la casetta. Prima era tre, un giro in più. Mi dici tu, esci! Quando tu mi dici esci... Alla quarta volta che passano la casetta da quel lato, poi gli esci. Quindi... ci sono i raggi, ci sono i raggi qua. C'è mia spruzza. La sicura è quella che hai tolto tu. Ah già, questo è collegato. No, quello collegato è il mio giudice. No, per levarlo. Si tira, si. Sì, ci sono i raggi. Sì, ci sono i raggi. Sì, ci sono i raggi. Siamo nella nostra categoria... Siamo in tre. Vedi che ha detto che è della tre, ma non è? No, non ho detto che c'è. È l'ossolura. Quatt'è? Quatt'è? 39. Ok. E' 40 gas. No, non ti preoccupare. No, no. Puttana! Vabbè, lascelo f*****, mamma. Ce la fai a questo? Ce la fai? Vabbè, lascelo stare, mamma. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mamma. Non ti preoccupare, mamma. Chiudi, vai. Mamma mia, vieni qua. Controlla, qua sotto c'è un cronometro. Puoi vedere se c'è qua sotto. No, no, dentro no. Sotto il seggialino. Beh, prendilo, prendilo. Grazie, grazie. Grazie, piccolo. Grazie. Sei un poco sconcentrato, mamma. No, Ramoni, con gente del gioco. Concento. Grazie. Aghah! Ah, eccello, dai! ci metterà è staccato tutto coso non ho una posta non lo voglio che la posta mi spaderebbe tutto a levare mamma, non un brazo una spada diciamo mezzo se hai stabilizzato la macchina no, ora questo è scassato non lo so quante stabilizza non è stabilizzato ma come nemmeno che ti mettevi nel carattere al lato mio attaccato con i fascini andava 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 diciamo se per di sotto poi andava 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 andava